Una tre giorni iniziata sabato e che si concluderà stasera di grande fede e partecipazione per la comunità di Battipaglia, un programma civile ricco di eventi per la grande festa patronale in onore della Madonna della Speranza, protettrice di Battipaglia, organizzata dalla comunità dei padri stimmatini, che da sempre guidano lo storico santuario cittadino e dall'amministrazione comunale. Il clou dei festeggiamenti si è consumato ieri con la rievocazione storica dell'arrivo del quadro della Madonna Battipaglia, poi la Santa Messa e la solenne processione. Infine, questa sera ad allietare la serata battipagliese arriverà Enzo Avitabile. Grazie.